Qualità della vita, il sole 24 ore mette la tuscia a metà classifica. Si scaldano i motori della politica locale, Partito Democratico, Perorte e Le Quadrifoglio di fatto iniziano la campagna elettorale. In studio questa settimana due ospiti. Ancora promozione in tv, Marco Polo e Arturo, televisioni satellitari e del digitale terrestre, qualificano Orte come sito turistico. Una buona serata, benvenuti come sempre all'appuntamento con il nostro TG Magazine. Nel mese di dicembre si fanno i bilanci ed anche il sole 24 ore, prestigioso quotidiano italiano, pubblica annualmente la classifica sulla qualità della vita delle province italiane. Vediamo com'è andata per la tuscia per quest'anno. Come ogni anno, il sole 24 ore pubblica dati sulla qualità della vita nelle varie province del bel paese. Nel 2013 la tuscia conferma quanto era lo scorso anno. Una posizione di metà classifica che sa di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, secondo come la si vuole vedere. Un lieve miglioramento di tre posizioni che però non consente quello scatto di Reni che l'avvicinerebbe al top delle prime posizioni. La provincia di Trento è al primo posto, Napoli fanalino di cota. Per Viterbo un premio di consolazione c'è. Seconda nel Lazio, subito dopo Roma, piazzata al ventesimo posto. Rieti è settantaquattresima, Latina ottantatreesima e Frosinone ottantasettesima. Analizzando i criteri della compilazione della classifica, viene alla luce che acquistare casa conviene. I fallimenti sono scarsi e si vive relativamente tranquilli. Tuttavia il tenore di vita è basso, ottantaduesimo. Così come basso il reddito pro capite, 19.000 euro di media, cifra lontana dal primo posto di Milano a quota 38.000. Purtroppo più vicino è il dato di Viterbo all'ultimo posto di Crotone con soli 13.000 euro. Quasi in fondo alla classifica per i consumi, centesimo posto. In tema di affari e lavoro, Viterbo è al settantaduesimo posto, penalizzata in fatto di export, novantaduesima, e start-up innovativo, novantunesima. Va meglio invece lo spirito d'iniziativa. Calcolando il numero di imprese registrate ogni mille abitanti, sia sedicesimi, e i fallimenti ogni mille imprese, diciassettesimi. I dolori arrivano dalla sanità, quasi in fondo alla classifica. Per infrastrutture Viterbo è al settantaduesimo posto. La tranquillità però non manca, trentaquattresimi su centosette province. Per scippi, rapine o borseggi, ogni centomila abitanti, Viterbo si piazza al ventesimo posto. Al trentaseiesimo per furti in casa, trentaquattresimo per furti d'auto e quarantaduesimo per frodi. In quanto a Svaki non si va male, la gente della Tuscia sa come divertirsi. Trentacinquesimi. Un quadro questo del sole ventiquattro ore che lascia anche un po' di amaro in bocca. Perché se confrontato con le province vicine, Viterbo è la provincia dove si sta peggio. Siena infatti è quinta, Grosseto ventottesima e Terni trentanovesima. Ci siamo trasferiti nello spazio dell'ospite, con noi oggi Gianrenato Nori, della lista per orte. Un commento, se vogliamo un po' aprire questo nostro piccolo spazio, con il Consiglio Comunale. Un commento su quanto è accaduto nell'ultimo Consiglio che riguardava la previsione di bilancio. Un'impressione veloce, insomma. Buonasera e grazie per l'invito. Io del Consiglio Comunale voglio parlare esprimendo alcune impressioni che ci ho avuto. Sì, questo ti chiesto. Sì, e ovviamente possono essere sbagliate. Quindi il dibattito sul bilancio si è svolto in un modo un po' disordinato, secondo me, e prolisso. E c'è stato pure qualche battibecco tra i consiglieri. Anche se riconosco che il tutto è stato ingentilito dal ricorso frequente a quelle locuzioni latine che hanno un pochettino fatto calare l'attenzione. La prima impressione che ci ho avuto è che nonostante le autoprevisioni di vittoria con percentuali bulgare siamo arrivati a pregonizzare il 100% per la maggioranza. Alle prossime comunali io non ho visto la maggioranza in buona salute e l'ho vista anche in difficoltà a rispondere alle critiche delle minoranze. Il primo fatto importante è che è stato formalizzato dalla maggioranza che a Orte dall'anno scorso non c'è più l'assessore al bilancio. Nel 2012, infatti, Galli motivò la rinuncia a quella delega mantenendo le altre, cioè il vice sindaco, l'assessore all'urbanistica e al patrimonio oltre che consigliere provinciale, perché non riusciva a svolgere il lavoro di programmazione economica. Lo disse ai nostri microfoni proprio. Anche il Consiglio Comunale vuole ribadire a termine. Dandone la responsabilità agli enti sovraordinati, specificamente. Io dico che se noi l'avessimo saputo con chiarezza prima, perché poi non c'è stata nessuna formalizzazione ufficiale, saremmo stati disponibili a dare maggiore risonanza alla sua protesta contro la provincia Meroi, la regione Polverini e il governo Monti. Polverini perché Zingaretti ancora non c'era all'epoca. No, era al 2012 e c'era Polverini. Vabbè, precisiamo, insomma, per gli aspettatori. Cioè, tutti gli enti sovraordinati in cui l'Udc stava al governo. Noi come minoranza avevamo richiesto, per protocollo, il 13 settembre, di conoscere prima la relazione previsionale e programmatica, proprio per snellire il dibattito sul bilancio, che in genere poi diventano noiosi. Non abbiamo ricevuto la relazione. Però secondo me ci siamo persi poco, perché nelle due pagine che poi ha letto il Sindaco di relazione previsionale e programmatica, io tracce di programmazione economica non sono riuscito a trovarle. Dicevo che la maggioranza mi è sembrata un po' in difficoltà nel rispondere ad alcune critiche delle minoranze in dettaglio, sulle scelte, per esempio, per la sicurezza. E ai soldi che noi riteniamo essere stati spesi male e che potevano essere spesi in maniera diversa e migliore, riferite agli 86 mila Euro di soldi pubblici delle 30 colonnine dissuasori, che si sono andate ad aggiungere agli oltre 500 mila Euro di soldi pubblici delle oltre 100 delle camere, che poi funzionano poco. Critiche sui tassi di copertura dei servizi a domande individuali, del trasporto scolastico e della mensa, è un anno che ne parliamo, si è aggiunto il discorso dell'asilo nido, in cui non è stato possibile affidare l'appalto di servizio a causa delle troppe poche domande che ci sono state di iscrizione all'asilo nido. Probabilmente una causa importante è stata anche il fatto che le famiglie di questi ragazzini si dovono far fronte del 72% per quest'anno della tassa. E infine il cattivo funzionamento della macchina comunale, che penso che sia sotto gli occhi di tutti e che secondo me rappresenta una responsabilità importante della maggioranza. Allora, il segretario comunale non c'è, il comandante della Polizia Municipale non c'è, il settore urbanistica troppe volte è là di tante, l'abbiamo recentemente verificato anche per la questione dell'alienazione da parte del privato della strada vicinale lì a San Zitale. Alcuni settori sono stati di fatto commissariati dalla Giunta e infine il settore dei lavori pubblici diventa, come all'ultimo Consiglio Comunale, carro e spiatorio quando si tratta di rispondere alle proteste dei cittadini oppure delle minoranze. una novità importante è stata il fatto che negli ultimi due Consigli Comunali le tre minoranze si sono presentate su alcuni temi con progetti condivisi che sono scaturiti da un confronto che c'è stato, eccetera. Io ritengo, si parla molto adesso del progetto civico, io ritengo il progetto civico che si sta cercando di realizzare a Orte una buona occasione per Orte, però sono convinto che il progetto civico potrà essere realizzato in maniera credibile solo se si svilupperà vedendo protagonisti i cittadini e le loro istanze. Quindi è dimore che questo progetto possa essere, come dire, non gestito, ma manovrato? Trovo difficile un aggettivo da abbinare. Non è un discorso di essere manovrato. Il progetto civico, ho detto protagonisti i cittadini, il progetto civico è quello che non possa essere gestito dai cittadini, diciamo così. Ma il mio timore è perché nel qual caso non si realizzerebbe, perché il progetto civico deve essere credibile, deve essere gestito dai cittadini. Poi dentro i temi che ci metti e le scelte che fai, chiaramente ci avranno un taglio politico alto, cioè un progetto civico che prevede... Ma i principali attori devono essere i cittadini. Ma certo, anche perché questo è un discorso che sta nascendo ora. Cioè non è che tu ti presenti 20 giorni prima delle elezioni e dici, vabbè, adesso facciamo il progetto civico. No, quello non è un progetto civico. E quindi non sarebbe credibile, non si realizzerebbe. Io, se mi permetti, vorrei tornare un attimo sulla liquode IMU del 2013, che abbiamo discusso l'ultimo Consiglio Comune. Noi abbiamo proposto un aumento della liquota per le prime case non esenti, le abitazioni di lusso, così. Sarebbero gli indici catastali a 1, a 8 e a 9. E la proposta è stata accolta dalla maggioranza e è stata inserita in delibera. Grossolanamente, finalmente, chi è più ricco paga di più. Questo è stato... Era ovvio che era un segnale soprattutto politico, perché sappiamo tutti che a orte di abitazioni che hanno quegli indici catastali ce ne stanno poche. Ma soprattutto, purtroppo, la sua applicazione sarà subordinata alla decisione del governo di coprire completamente la quota di aliquota della seconda rata della prima casa. Ancora non si conoscono i termini. Anche nei comuni che, come è successo a Orte, l'hanno deliberata superiore al 0,4%. Infatti, tu dici, non si sa, c'è in atto uno scontro tra comuni e governo. Ecco, io sto con i comuni. Io sto con i comuni e contro la confusione che ha fatto il governo sulla questione dell'Imo. Però non ci saremmo trovati così se nel 2012 fosse stata accolta la proposta di per orte sulla aliquota Imo. Noi proponemmo la prima casa allo 0,3% e la seconda casa allo 0,96%. Proposta che Galli, che fu l'unico che ebbe l'educazione di rispondere a questa proposta, perché l'altro non ha risposto nessuno, che ancora era assessore, giudicò economicamente percorribile, cioè applicando quell'aliquota noi saremmo arrivati alla stessa cifra prevista in entrata con le aliquote che invece possono stare deliberate. Ma definì non applicabile perché comunista. Lascio la risposta ovviamente a Galli. No, ma l'ha detto, l'ha detto. sta sulle orte. Un'ultimissima domanda brevemente. Domenica si vota per le primarie. Hai mandato un comunicato in cui hai espresso le motivazioni perché voterai per Matteo Renzi. Vuoi dire qualcosina in merito proprio velocemente? Sì, sì. Allora, le primarie per me sono una cosa bella. E devo dire la verità, i candidati a me stanno simpatici tutte e tre. ciò che mi auguro è che gli ortani vadano a votare in tanti perché comprendo la loro difficoltà a superare la delusione che giustifico nei confronti della politica. io voterò per Renzi l'ho già detto e semplificando per due ordini di motivi. Intanto perché dice chiaramente quello che penso pure io da tempo da qualche anno e poi perché secondo me solo lui può dare quella spinta positiva di cui ha bisogno sia il centro-sinistra ma secondo me tutta l'Italia. Bene, con queste impressioni ulteriori sulla scelta di Gianrino Donori che voterà per Matteo Renzi alle primarie io lo ringrazio di essere stato qui con noi e ovviamente poi avremo occasione nel prossimo anno perché noi dalla prossima settimana daremo un po' uno stop alle trasmissioni politiche diciamo così ci dedicheremo un po' a argomenti più leggeri e ci rivedremo a gennaio anche perché le feste sono vicine. Grazie ancora dicevo a Gianrino Donori noi adesso vediamo un servizio che riguarda l'emittente satellitare Marco Polo. è stata qui diverso tempo fa ha realizzato una bella una bella trasmissione sulla nostra cittadina valorizzando ancora quelle che sono le attrattive principali del nostro comune in questo momento vale a dire i sotterrani vediamo. Ancora un passaggio promozionale di Orte su canali televisivi nazionali non solo satellitari ma questa volta anche del digitale terrestre. Marco Polo e Arturo hanno trasmesso un bel filmato che mostra i siti più belli del territorio ortano con particolare riguardo ai sotterrani del centro storico divenuti ormai il fiore all'occhiello dell'intera offerta turistica. Non c'è dubbio che questi servizi sono frutto del grande lavoro promozionale svolto in questi ultimi anni dove Orte è stata riqualificata. La tensione è salita grazie anche a manifestazioni come quelle di domenica scorsa Orte in Cantina che in due weekend ha portato nel centro storico più di 1500 turisti. Tornando a quanto trasmesso da Marco Polo vediamone un frammento. La ricetta che vi proponiamo oggi sono i piperelli e i funghi porcini. I piperelli sono un tipico impasto di acqua e farina con un pizzico di sale lavorati a mano in strisce allungate. Condite con diversi sughi anche in funzione della stagione in cui ci troviamo. Oggi ve la proponiamo ai funghi porcini pancetta e salsiccia. Ed eccoci qui in studio nuovamente con l'altro ospite del nostro TG Magazine Moreno Polo coordinatore del Quadrifoglio un invito questo perché l'ho già detto poco fa con il consigliere Nori chiudiamo un po' la pagina politica locale per quest'anno poi la riapriremo a gennaio e arrivano le feste insomma e ci piace dedicarci anche ad altri commenti più leggeri. Sempre sull'ultimo consiglio comunale facendo però riferimento a io partirei un po' da perché il consiglio comunale è vero che ha trattato il bilancio di previsione però sono stati affrontati anche aggrumenti che erano stati poi già detti qui da consigliere Zeppa la scorsa settimana anche poi anche su un comunicato precedentemente uscito che riguardava gli ato Erox che riguardava la casa famiglia la zona artigianale insomma un'impressione un po' su questo che ne pensa insomma un po' il Quadrifoglio anche se sul consiglio comunale si è dibattuto. Buonasera a tutti innanzitutto grazie per l'ospitalità la nostra intenzione era quella di non di non scendere nelle polemiche inutili quando è uscito il primo comunicato sugli autovelox perché insomma c'era stata una spiegazione abbastanza sauriente nella sala delle bandiere in comune e se fossero limitati a a quel comunicato alla fine le risposte date in consiglio comunale sono state abbastanza sufficienti poi dopo siccome si è insistito anche su altri problemi passano messaggi un po' distorti in mezzo alla cittadinanza e abbiamo ritenuto necessario dare qualche approfondimento sugli argomenti ad iniziare proprio dagli autovelox e l'argomentazione che hanno portato sia in consiglio che nel comunicato è che sono costati troppo che sono troppi e che sono dislocati mali e che altri comuni quei soldi li hanno utilizzati in un altro modo questi sono un po' i loro punti diciamo di dissenso e che hanno portato allora qui c'è da dire una cosa innanzitutto che come al solito sono molto disattenti su quello che succede nella vita comunale perché questo progetto è stato presentato non l'altro ieri è stato presentato ad ottobre del 2010 quindi con una richiesta del finanziamento che poi è stato che è stato poi concesso erogato e ha seguito il suo iter fino ad arrivare a ma in gennaio di quest'anno fine gennaio 2013 con l'approvazione anziché del 50% come avevamo chiesto noi del 45% quindi anziché 42 mila euro la regione ce ne concedeva 38 mila su questa e quindi chiedeva il nostro assenso cosa che è stato dato dal comune subito dopo si sono attivate tutte le procedure il progetto esecutivo e il parere della conferenza dei servizi questo per dire che ormai è consuetudine degli enti sopraordinati dare dei finanziamenti a partecipazione dell'ente locale interessato o devi dare sperpero di denaro per cose che poi non sono controllabili la cittadinanza perché non considerati soldi diciamo propri su cui è necessario un controllo più attento siccome escono dalle casse del comune quindi c'è una necessità di una partecipazione della spesa se noi dovessimo dare seguito alle proposte che vengono dalla parte del PD noi non dovremmo più prendere nessun finanziamento in questa fase andremo a fare più opere perché ogni volta dovremmo partecipare se questo non è possibile una critica che è stata fatta dice che la maggioranza non ha i soldi 10.000 euro per il trasporto però li trova per gli autovelox allora intanto questa cosa è singolare che esca fuori adesso poi parlo anche dei 10.000 perché l'impegno di spesa è stato fatto nel 2012 perché quando è arrivato l'autorizzazione dalla regione per il finanziamento e quindi per dire che noi avremmo fatto questo progetto era fine febbraio 2012 quindi rientra sull'altro bilancio esatto era sul bilancio su cui abbiamo discusso anche dell'aumento della mensa era il bilancio dell'anno scorso loro non ne hanno fatto cenno perché evidentemente erano distratti non se ne sono accorti che c'era questa cosa poi mischiare soldi che vengono utilizzati per per i servizi sociali o per in conto capitale o per i lavori non è possibile farlo cioè se noi quei soldi non avessimo spesi per fare gli autovelox non avremmo sicuramente potuti spendere per la mensa e poi mistificare avremmo potuto fare qualche altra cosa tipo asfaltare una strada o fare un pezzettino di marciapiede questo può darsi che avremmo potuto farlo al posto di questo ma noi abbiamo dato seguito alle richieste che venivano dalla cittadinanza perché negli incontri di quartiere che per noi non sono stati mai una passerella elettorale ma sono stati punti di incontro e di ascolto dei vari quartieri ovunque siamo andati la richiesta che è ricorrente in tutti i quartieri è stata quella del controllo della velocità perché c'erano velocità troppo elevate sulle arterie principali del comune questo progetto perché ne prevede 30 per ritornare sul discorso dei 30 che non sono troppi perché le vie di accesso il progetto prevede dei dissuasori di velocità per le vie di accesso alle stazioni soggette a pendolarismo allora c'è l'arteria che viene da Amelia passando per Petignano quindi tutta la zona quella da Viterbo che scende verso la via centrale fino a Orte Scalo e da Gallese che viene a Orte se il PD avesse eseguito la presentazione che c'è stata in comune avrebbe capito perché 30 non sono troppi ma ne servono alquanto meno ne servono 6 o 8 in ogni tratto perché quando noi italiani noi cittadini siamo abituati vediamo un autovelox un dissuasore lo vediamo rallentiamo a quel momento subito dopo siccome non ce n'è un altro si riprende la velocità e quindi il problema non è risolto messi in sequenza senza sapere senza sapere dove è dislocata l'autovelox siamo costretti a botorto collo a mantenere una velocità costante nei limiti previsti dal codice della strada con questo abbiamo raggiunto anche un altro obiettivo che dicono che sta a cuore anche a loro ma non mi sembra che è quello del miglioramento della qualità della vita soprattutto per le persone che con le loro abitazioni insistono su queste arterie perché aver diminuito le velocità significa aver diminuito il livello dei rumori aver diminuito la pericolosità per chi in quelle strade ci vive a ridosso cosa che noi sentiamo tutti i giorni da tante persone addirittura alcuni ci hanno chiesto di installarle altre anche in altri punti critici del centro abitato tipo Artescalo o altri brevemente abbiamo seguito il consiglio comunale c'è stato anche un intervento del consigliere Scorcetti dicendo che non sono legali questi tipi di dissuasione di velocità ma è così? questo allora la consigliera evidentemente ha scaricato un parere del ministero delle infrastrutture datato ormai che era del 2012 preso dal sito credo io l'ho visto sul sito io automobilista ma questo è stato smentito innanzitutto dal fatto dalla risposta data dal sindaco in sede di consiglio comunale dicendo che è stato approvato dalla conferenza dei servizi e quindi sicuramente è stato valutato correttamente che erano legali ma poi c'è un parere sempre dello stesso ministero delle infrastrutture e dei trasporti che è del 23 aprile del 2013 dove su richiesta di parere in merito al posizionamento di questi box si dice che ne comporta il divieto d'uso ai sensi dell'articolo 45 salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitori di dispositivi misuratori della velocità debitamente approvati cioè i misuratori quindi fammi capire il box non può rilevare la velocità da solo ma se dentro viene messo come contenitore allora si addirittura si dice proprio che può essere installato in pianta stabile volevo un po' chiarire con questo perché quando si sente poi installato in pianta stabile chiudiamo questo capitolo passiamo su questo scusami vorrei dire una cosa quando è stato detto che non abbiamo trovato i 10.000 euro per la mensa lì ripeto ho già detto prima che non si possono mischiare i soldi dei due titoli però non sono anche mandare il messaggio che sono semplicemente 10.000 euro non è che questa amministrazione sia divertita ad aumentare il costo della mensa per ogni singolo bambino che ne usufruisce così per 10.000 euro allora il costo era ben altro perché noi siamo passati da una media per capirci di 3,30 euro perché erano 3 euro 3,30 euro e 3,60 euro secondo la scuola a una media di 3 euro di 4,30 euro noi spendevamo come comune la quota che metteva il comune perché il costo era 4,60 euro del pasto spendevamo 52.000 euro a cui si aggiungevano le riduzioni dovute dall'ISE quindi c'era chi pagava il 50 e il 25 e portavano a 75.000 euro quindi con questo noi abbiamo fatto un taglio una parte diminuendo la base d'asta per la cooperativa che anziché a 4,60 l'ha portata a 4,30 medio quindi a 30 euro per 40.000 pasti fanno 12-13.000 euro circa di risparmio con la cooperativa l'anno successivo e in più con i 90 centesimi medi di aumento per ogni bambino si è tagliato una spesa quindi si è aumentato l'introito da parte dei bambini si è ridotta una spesa perché abbiamo dovuto sopperire se qualcuno non se lo ricorda 300.000 euro di taglio fatte dal governo come minori trasferimenti a questo comune che ce li siamo trovati all'improvviso durante la stasura del bilancio a fine settembre bene ti chiederei di essere un po' più sintetico in questo tempo vola hai ragione scusami ma era necessario sì gli altri argomenti che sono stati discussi sempre in consiglio comunale a parte il bilancio riguardavano un po' sempre la natura del comunicato del partito democratico che poi anche come ti dicevo il consigliere Zeppa ha ribadito questa settimana scorsa casa famiglia sì sulla casa famiglia è da tempo che lo sento e l'ha ribadito ho avuto modo di discutere con lui in diverse situazioni è pericolosa che è lì oppure no è pazzesco mandare questo messaggio te vedeva fuori allora è chiaro che in una zona dove è stata fatta su quella zona lì c'è stata c'è una zona fino a poco tempo fa di esondazione poi quando è stato presentato il progetto con una modifica agli argini sono stati presi tutti i pareri per modificare gli argini e quella zona di espansione è stata recuperata da un'altra parte allora se durante i lavori avviene una alluvione come quella dell'anno scorso e quindi ancora non sono state fatte tutte le opere a protezione della struttura è chiaro che si allaga è normale ma l'alternativa proposta è una pazzia almeno a nostro parere cioè abbiamo speso un milione di euro allora la proposta qual è? una dislocazione in un altro posto benissimo significa che noi quel milione di euro lo dobbiamo demolire e la demolizione costa quindi andiamo a spendere dei soldi per demolirla per rimettere tutto come era prima e poi individuarla da un'altra parte non è molto più semplice continuare in quell'opera e fare tutte le costruzioni necessarie a protezione di quella struttura così come era prevista dal progetto perché nessuno ha fatto obiezione cioè lì si stava lavorando si stava scavando è chiaro che quando arriva l'alluvione poi gli scavi vengano sommersi perché la protezione ancora non era stata prevista ad oggi un minimo di argine è stato fatto i lavori stanno infatti messi a protezione quando sarà finita sarà sicuramente protetta e mandare un messaggio allarmistico come quello che ho sentito la settimana scorsa dove ma lì dovranno andare sicuramente anche i ragazzi del centro che hanno difficoltà magari motori e diventa pericoloso cioè è un messaggio che non mi piace che venga fatto del terrorismo su cose che non esistono perché insomma zona artigianale anche qui siamo veramente a proposte che rimango allibito cioè si dice in campagna elettorale ci accusavano di fare di rischiare che qualcuno facesse speculazione perché con tutti quei lotti poteva esserci chi le comprava tre o quattro poi magari si li rivendeva e quindi nel bando ne abbiamo messo che più di due cioè uno massimo due si potevano prendere proprio come deterrente e l'eccessivo costo oggi ci dicono che l'eccessivo costo invece fa da deterrente non possiamo più venderli rimangono invenduti va bene riconosciamo la crisi ma il privato non compra perché costano troppo allora la proposta è abbassare il costo degli ulteriori lotti io dico sappiamo cosa significa questo cioè innanzitutto non si può fare per legge perché noi dobbiamo venderli a prezzo che è stato acquistato abbassarli per quelli che sono rimasti invenduti significa tre secondi dopo far scattare il ricorso di chi l'ha comprati prima a prezzo di mercato noi addirittura dovremmo venderli aggiungendo l'inflazione l'indice Istat di rivoluzione quindi non si possono è chiaro che oggi c'è un momento di crisi e quindi chi deve investire ci pensa un attimo fino a che non non vede la via d'uscita ma questo è normalissimo l'importante se siamo tutti consapevoli che prima o poi questa crisi finirà che ci sia il sito dove poter investire perché se noi non ce l'abbiamo poi dopo anche se finisce la crisi dobbiamo aspettare in altri vent'anni per creare questo posto quindi c'è l'ultimo argomento che era trattato su quel comunicato poi ovviamente il Consiglio Comunale si è parlato anche della sanità della biologia insomma di altri capitoli l'altro punto importante di cui si è parlato che si è contestato è il discorso dell'asilo nido lì onestamente ho sorriso quando ho sentito il Consigliere Zeppa che diceva non è stato fatto una corretta simulazione indagine per capire quanti potevano essere i fruitori prima di costruire questa struttura per non buttare i soldi dei cittadini perché anche se finanziamenti regionali comunque sono soldi della collettività che noi avessimo poteri divinatori non lo sapevamo perché sapere due anni prima perché tra l'ideazione la progettazione la richiesta e finanziamento e la realizzazione sono passati due anni noi sapere due anni prima quante persone si sarebbero sposate avrebbero messo al mondo dei figli che avrebbero usufruito dell'asilo nido perché questo ripetiamo è una struttura che va per i bambini da tre mesi a tre anni significava avere dei poteri divinatori allora al di là delle battute che possono nascere su questo noi un'indagine l'avevamo fatta prima di avviarlo e le richieste erano circa una trentina poi nel momento in cui abbiamo dato il via libera fine dei lavori e inaugurato quelli veramente interessati sono rimasti 12 o 13 non ricordo bene adesso il numero ma un numero più esiguo adesso le motivazioni quale possono essere alcune persone magari avevano già provveduto in un altro modo perché l'inaugurazione è avvenuta in corso di anno altre persone magari abbastante la crisi che qui perdono lavoro continuamente le persone magari stanno a casa e dicono io me lo guardo io risparmio i soldi perché poi non c'è la possibilità l'obiezione del prezzo troppo alto allora io direi qualche indagine di farla perché il 5 inaugurato ha anche Bolsena e Bolsena è un comune diciamo che ha costruito un asilo nido identico al nostro perché 34 posti il nostro è 36 quindi possiamo dire che sono uguali le problematiche sono identiche e il costo è pressoché simile perché sono 350 per il tempo parziale e 400 per il tempo pieno le iscrizioni sono meno delle nostre considerando che Bolsena rispetto a Orte è un comune ricchissimo perché passa da 5.000 stanziali residenti nel comune a 20.000 durante il periodo estivo e delle festività natalizie e anche loro hanno avuto queste difficoltà poi il problema è che noi abbiamo invitato come d'obbligo 5 cooperative sociali con le caratteristiche per poter gestire queste strutture ne ha risposto una sola con una proposta non valutabile perché sono state poste delle condizioni è singolare che le stesse condizioni poi le ho sentite dire anche da consigliare Zeppa qui in trasmissione non è che chi partecipa alla gara che pone le condizioni è l'amministrazione che dice questa è la struttura a disposizione se non hai altro da aggiungere io finirei qui no io non ho su queste cose non ho altro da aggiungere mi auguro soltanto che la campagna elettorale che loro hanno iniziato e che noi ancora non abbiamo messo mano non sia sulla falsariga di quella passata ma sia una campagna elettorale democratica e nell'interesse della cittadinanza questo è un modo di liberarne nel 2014 sicuramente grazie Moreno Polo di essere stato con noi noi adesso vediamo un servizio che arriva dall'Umbra ovviamente vediamo che cosa ci riserva questa settimana la redazione di AVI News Ermanno Cardelli presidente Tucep oggi la presentazione di due progetti per educare i valori dell'integrazione europea che vedono proprio a soggetto capofila il Tucep ecco di che cosa si tratta e quali sono gli obiettivi allora grazie innanzitutto dell'ospitalità si tratta di due progetti i nomi sono ESPRI e PERSPECTIVE che sono in realtà uno in cascata all'altro in senso uno è nella sua fase finale l'altro sta iniziando ha mosso già i primi passi queste sono una serie di iniziative che in particolare il Tucep l'università degli studi e tutti i nostri partner non ho tempo qui per nominarli tutti stanno facendo da tanto tempo nel settore della formazione dei formatori la formazione dei formatori in senso europeo nel senso estratamente europeo allora questi progetti molto innovativi molto importanti se mi lasciate dire con un pizzico d'orgoglio che il Tucep è una delle realtà a livello locale ma forse anche nazionale che si occupa in maniera continuativa e direi dall'accoglimento delle nostre proposte anche con un certo successo di queste problematiche che ha messo in opera una serie di iniziative pratiche fondamentali importanti appunto che vanno nell'accoglimento di questa raccomandazione che è una raccomandazione europea l'Europa ci raccomanda di formare i nostri formatori con un livello europeo non solo ma di formare i nostri formatori che poi formeranno i nostri allievi quindi i nostri futuri cittadini europei in maniera di avere una consapevolezza delle possibilità che ci sono in Europa oggi troppo spesso il cittadino italiano ma non solo italiano europeo non ha contezza di quelle che sono le necessità le possibilità le esperienze che si possono vivere con una normativa europea siamo in un momento di calo di lavoro di difficoltà sociali allora conoscere le possibilità che ci dà l'Europa contribuisce senz'altro molto per questo motivo è previsto una forte importante e continuativa liaison tra legame tra il mondo imprenditoriale dei giovani imprenditori soprattutto e il mondo della formazione e dei formatori allora questa è una iniziativa con questi due programmi che raggruppa moltissime organizzazioni europee qui ce ne sono almeno 12 oggi in visita tra partner del progetto e partner interessati con i quali stiamo continuando a lavorare e io spero che sia effettivamente un settore che continua a essere trainanti e continua a essere promettente e che l'Umbria e anche il Tucep per quanto potrà possa giocare un ruolo importante in questo e continuiamo con la pagina politica locale le dimissioni da assessore al bilancio di Francesco Galli determinano un'anomalia per effetto del trasferimento delle deleghe al sindaco primieri già responsabile dei lavori pubblici inizia così il comunicato stampa del partito democratico emesso proprio qualche giorno fa denunciamo questo accentramento eccessivo di poteri ritenendoli impraticabile in un'ottica di efficacia ed efficienza della macchina amministrativa aggiungiamo il nostro stupore dice il PD dinanzi alla notizia resa pubblica in consiglio comunale della disponibilità ad alcuni anni di un'auto concessa ad un consigliere comunale di maggioranza su precisa scelta del sindaco per lo svolgimento di attività di raccordo tra il capo servizio e gli operai a prescindere dalla modalità di svolgimento dell'attività del consigliere di maggioranza immaginiamo verificante dagli organi competenti dell'amministrazione altrimenti invidiamo a farlo riteniamo che in una fase così delicata sotto il profilo economico sociale dove i cittadini sono chiamati a pagare servizi anche indispensabili in misura sempre maggiore l'amministrazione debba individuare tutte le forme possibili per ottimizzare il funzionamento della macchina amministrativa il comunicato del Partito Democratico continua dicendo per questa ragione ci chiediamo e giriamo questi interrogativi ai cittadini ortani oltre che agli organi competenti in particolare al segretario comunale se sono state effettuate analisi costi benefici per tutte le attività comunali esternalizzate siamo sicuri dice il PD che alcune delle attività esternalizzate non possano essere svolte dal personale comunale con conseguente risparmio per l'intera collettività così come nel caso dell'attività svolta dal consigliere di maggioranza ed è lecito che un consigliere comunale di maggioranza utilizzi scusate un'autovettura comunale a prescindere dalle ragioni legate al suo utilizzo sottraendola di fatto al personale dell'amministrazione comunale c'è ora una notizia che riguarda la provincia c'è stato un momento di incontro per parlare del futuro della Tuscia un'occasione per riflettere su come si potrà governare il territorio viterbese una volta che il disegno di legge del ministro del Rio avrà portato a compimento il superamento dell'ente provincia e dato vita a quel progetto ancora troppo generico di area vasta che al momento comprende più ombre che luci grande partecipazione nella sala conferenza dell'archivio di stato di Viterbo per il convegno organizzato dal gruppo di studio la Tuscia e la riforma degli enti locali concepire una riforma delle province più in generale delle autonomie locali con la costituzione delle città metropolitane e aree vaste con il solo intento del taglio della spesa pubblica è oggettivamente un falso lo dice il presidente Meroi non perché e lo diciamo io lupi dice Meroi ma perché lo affermano dati alla mano la corte dei conti e la regioneria dello stato una riorganizzazione complessiva continua Meroi che rivede il funzionamento di determinate strutture è necessaria ma non può avvenire attraverso uno scorretto procedimento di cancellazione di enti previsti dalla costituzione va pensata detto Meroi una complessiva revisione di tutta la pubblica amministrazione due giorni di immobilitazione per dirano al progetto dell'autostrada Ortemestre la protesta organizzata dalle Gambiente vedrà una raccolta di firme a sostegno di una legge regionale contro il consumo del suolo le Gambiente e le altre organizzazioni che aderiscono alla rete nazionale Stop Ortemestre si legge nel comunicato si battono da anni contro la nuova autostrada perché ritenuta altamente impattante estremamente costosa e totalmente inutile soprattutto alla luce dell'esistenza della superstrada E45 che collega Orte e Ravenna siamo nel periodo natalizio e perché non regalare un cucciolo di cane ai vostri bambini non bisogna andare molto lontano per accontentarli guardate questo servizio Se hai intenzione di prendere un amico a quattro zampe dai un'occhiata presso il canile comunale di Orte è aperto tutti i martedì dalle 9 alle 11 sono animali sani vaccinati di ogni taglia e razza non aspettano altro che di essere adottati da umani buoni come loro una volta scelto non devi far altro che recarti al comune e compilare un modulo tutto gratuitamente e il tuo sogno sarà realizzato qualche giorno fa sono stati ritrovati abbandonati nel bosco 5 cuccioli gli animali infredoliti e affamati sono stati prontamente curati dato loro da mangiare e accolti momentaneamente nel canile comunale di Orte condividere la propria vita con un cane è un'esperienza unica per tutti ma diversa per ognuno accogliere un morbido batuffolo nella propria famiglia regala la gioia e l'allegria che solo un cucciolo può portare la sua vivacità il suo modo cordiale di avvicinarsi a tutti leccare le mani in segno di amicizia giocare ininterrottamente per ore e poi crollare di improvviso stanco morto per dormire altrettante ore se siete davvero pronti ad assumervi questo impegno se avete valutato attentamente tutti i pro e i contro se siete disposti a cambiare la vostra vita con l'arrivo del cane allora siete pronti per fare una delle esperienze più appaganti della vita l'affetto la fedeltà incondizionata l'ammirazione che brilla nei suoi occhi ogni volta che vi guarda la sua voglia di stare sempre e comunque con voi senza stancarsi mai perché per lui non sarete mai noiosi non ne avrà mai abbastanza di voi la puntuale trepidazione quando rientrate anche dopo solo 5 minuti di assenza l'impaziente attesa della passeggiata del gioco della gita fuori porta purché si faccia sempre insieme perché voi siete unici e perfetti ai suoi occhi e niente più bello che passare del tempo con voi tutto questo non ha prezzo vi ricordiamo che il canile di Orte è aperto al pubblico tutti i martedì dalle ore 9 alle ore 11 per ulteriori informazioni contattate il comune di Orte al numero 0761 40 43 51 questa settimana la rubrica Albo Pretorio non va in onda poiché non sono state emesse dei liberi di particolare interesse c'è però una notizia che prendiamo dal sito del comune di Orte riguarda la possibilità che le famiglie che hanno tre figli minori di accedere ad un assegno un contributo chi può chiedere questo contributo lo può fare il genitore naturale o adottivo o preadottivo di almeno tre minori che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica vale a dire lo stato di famiglia e convivere effettivamente con lui le domande debbono essere presentate entro il 31 gennaio quindi ci sarà questa erogazione di questo assegno da parte dell'Inps ovviamente vanno prodotti dei documenti comunque potete andare per chiedere maggiori informazioni presso gli uffici comunali il momento di vedere che tempo farà per questo fine settimana ed anche la situazione del traffico sulle strade regionali un cordiale saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimetio ci aspetta una domenica dell'immacolata con sole prevalente sull'Italia grazie a rinforzo dell'alta pressione ma non per tutte a causa di umidi venti occidentali che come vedete dalla grafica determineranno un progressivo aumento delle nubi sui versanti tirrenici sulle isole maggiori e anche sulla Liguria con anche qualche pioggia non esclusa a fine giornata ma di questo ne parleremo più avanti andiamo a vedere le temperature partendo dai valori minimi che saranno in generale lieve calo con possibili gelate anche in pianura sulle aree interne del centro nord per quanto invece riguarda le massime ci attendiamo un calo termico sulle regioni settentrionali dove si esaureranno i venti di Fenne mentre attendiamo un aumento delle massime sul centro sud su valori piuttosto miti per il periodo entriamo nel dettaglio previsionale partendo dal nord Italia con tempo sì stabile ma non ovunque soleggiato e in particolare sulla Liguria dove ci attendiamo un aumento delle nubi che diverranno anche stese compatte entro fine giornata mentre sulla Valpadana avremo nebbie foschie o nubi basse soprattutto sui settori occidentali tempo invece più soleggiato sulle Alpi e sull'Alto Adriatico con al più qualche nube sparsa spostiamoci ora al centro con sole prevalente soprattutto sui versanti adriatici mentre vedete che sulle Tirreni avanzeranno queste nubi medio basse appunto dal Tirreno ma senza fenomeni associati per quanto riguarda invece il sud anche in questo caso tempo più soleggiato sui versanti adriatici e ionici mentre le nubi tenderanno ad aumentare sulla Campania la Calabria Tirrenica e la Sicilia con anche qualche pioggia non esclusa entro fine giornata tempo infine spiccatamente variabile sulla Sardegna con nuvolustà irregolare a ternata delle schiarite per adesso mi fermo qui per tutti gli aggiornamenti e previsionali consultate il sito trabimetro.com oppure venite a trovarci sui social network di Facebook Twitter e Google Plus A Viterbo nel quartiere medievale per consentire una manifestazione legata al Natale a partire dalle ore 8 completamente chiusa piazza San Carruccio la repertura stasera alle 20 medesima chiusura domani sempre dalle 8 alle 20 in provincia di Rieti la statale 17 dell'Appennino abruzzese resta chiusa per una frana a chilometro 4 e 300 tra Antrodoco e Rocca di Corno le deviazioni sulla salaria seguendo le indicazioni per l'abitato di posta e quindi per Montereale e l'Aquila altra alternativa impegnare la statale Salto Cicolana fino al casello autostradale di Valle del Salto passiamo in provincia di Frosinone sulla Roma-Napoli sempre chiuso il casello di Ferentino per uscire dall'autostrada per le provenienze da Roma ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Napoli all'occorrenza è possibile utilizzare le stazioni autostradali di Anagni-Fiuggi o di Frosinone a cura dell'assessorato alla mobilità della Regione Lazio e dell'Aci L'8 dicembre si vota per le primarie e c'è un appello di Rita Squarcetti consigliere comunale del Partito Democratico e l'occasione dice per indicare la strada che deve intraprendere il PD io voterò a Civati per più di una ragione condivido la sua posizione al governo Letta la ferma richiesta della legge elettorale e la necessità del ritorno al voto la necessità di un chiarimento definitivo sulla questione dei famigerati 101 che hanno portato a questa brutta copia della coalizione tedesca la posizione a favore dei matrimoni e adozioni gay uno sguardo privilegiato alla sinistra vendoliana e al popolo dei grillini la richiesta di sfiducia alla cancellieri tutto detto con parole chiare semplici ed inequivocabili soprattutto inequivocabili perché non se ne può più del trasformismo del qui lo dico e qui lo nego e delle persone buone per tutte le stagioni credo dice Rita Squarcetti che se è vero che la politica è la vita di tutti i giorni allora bisogna usare le parole della quotidianità quella del pane al pane e vino al vino solo così si può imboccare la strada che può restituire dignità alla politica credo che Civati possa contribuire a tutto questo e quindi lo sostengo Fuga di Cervelli si chiama così il film proiettato dal Cineteatro Alberini per questo weekend la programmazione ovviamente è prevista per sabato alle 21.45 domenica alle 15.45 17.45 21.30 lunedì e martedì con ingresso a 4 euro alle ore 21.30 come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla nostra TG Magazine per la prossima settimana entreremo nel vivo delle festività natalizie grazie per essere stati con noi buonasera grazie per aver guardato